salve a tutti e tutti cari amici di youtube come promesso vi faccio questo video perché è per me un piacere tata aver raggiunto quota 5071 visioni vios e 26 followers seguaci in quattro o cinque mesi 4 grazie per seguirmi per vedere i miei video per avermi dato quota 5071 continuate a vedermi ad iscrivervi nel mio canale di youtube sant e chan e a risentirci forse è così grazie grazie